il problema ragazzi è che non so come farvi vedere la parte di sopra cioè io non posso accettare che lui mi tagli l'equivalente in pixel di questa striscia che è quella del sopra della finestra praticamente dove ci sono scritte tra l'altro una serie di informazioni inutili che riguardano l'emulatore ma non c'è un modo di occultare questa roba e poi sì, in teoria ci deve essere tra le opzioni e la finestra magari lo risolvo così qualcuno di voi sa come si fa questa cosa su windows cioè fargli tagliare la cosa di sopra il pezzo di sopra della finestra e poi eventualmente la chiudo con alt f4 non so come cazzo faccio però ci sarà un modo per fargli tagliare il pezzo di sopra della finestra la striscia con le opzioni io non lo so fare perché non l'ho mai fatto non ho mai avuto questa necessità però in questo momento ce l'ho alt e più invio? ok fermi tutti è successa una cosa un po' inaspettata ma quindi in realtà è 800x600 questa risoluzione non è 640x480 ok allora il fatto è che dopo non vi leggo più perché sfalsando la risoluzione adesso come lo vedete male perché ovviamente ho buttato fuori questo deve diventare 800x600 la finestra io purtroppo devo andare ora mi dispiace non poterti aiutare fammi sapere se poi risolvi grazie Nori grazie mille proviamo a fare 800x600 in questo modo però quindi bande nere a tutto spiano ok e no adesso però lo fa così e se invece faccio così sparisce quello brobrio si sparisce però chiaramente devo usare tutto lo schermo e quindi non vi leggo più ragazzi se faccio così perché lui occupandomi tutto lo schermo con una 800x600 distorce completamente quello che c'è sul secondo schermo e quindi io non vedo più la vostra chat mi va fuori dallo schermo e non la leggo più e la colpa è di OBS vero il problema non è il gioco perché OBS questa porcata me la fa su tutte le finestre non solo qua così riesco a vedere la schermata del gioco di quello che trasmetto ma non vedo la vostra chat non riesco a leggervi così devo usare il cellulare con le solite limitazioni cioè se poi il cellulare si impalla ovviamente non leggo più un cazzo vediamo e vi devo leggere così visto e ricordate che San Ceppato è il numero è il numero è il numero è il numero io sto provando l'incredibile emozione di giocare su uno schermo che sembra quello del mio vecchio tubo catodico e ragazzi vi rimando l'intro così ve la guardate chi è arrivato dopo ti piace proprio questo audio ma io vorrei sapere perché solo tu lo senti così alto veri non capisco e gli altri non mi protestano per il volume altissimo invece tu si ragazzi questo gioco è ambientato a Waterdeep Waterdeep è una delle città del Ferun io non so se c'è una mappa del Ferun da qualche parte posso farvi vedere non credo che la troverò qui perché questo è solo un manuale della magia preferisco quando si sente di più l'interlocutore che il gioco ma la mia voce non la posso alzare più di tanto e non avrebbe senso abbassare il volume visto che questo gioco poi di audio non ne ha tantissimo però si vede proprio bene adesso quindi vedete il chierico che prega il mago con il libro di incantesimi e i guerrieri o i ladri con le loro armi da corpo a corpo allora dicevo ragazzi tornando al nostro excursus storico quanto ho sbavato dietro a sto gioco quando usci esatto perché come stavo dicendo poco fa Black questo gioco rispetto a quello che ho fatto vedere prima ciao il nigno è stato un colossale passo in avanti e adesso lo vedrete dal gameplay che nel gameplay vedrete quanto è infinitamente più fluido più ragionevole e diciamo con più compromessi a favore della giocabilità in quello di prima era praticamente una specie di tattico in cui dovevamo selezionare ogni minimo dettaglio di come erano equipaggiati i personaggi come erano disposti come li facevamo muovere i combattimenti andavano rifatti 8 volte perché ovviamente dovevi studiare bene il terreno i nemici non sbagliare mai una mossa poi c'erano i tiri di dado che ti rompevano le palle quindi era proprio una simulazione strategica in realtà questo invece è stato un gioco che ha dettato i canoni per un genere che oggi noi conosciamo come dungeon crawler e un attimo prima di chiudere la live vi farò vedere come si è evoluto questo genere oggi cioè in realtà non si è evoluto molto perché il dungeon crawler con caselle diciamo a caselle quadrate è rimasto più o meno così ok tenete conto che io non posso giocare di fatto in questa arnise perché il fatto che lui mi falzi lo schermo significa per quanto sta in live ma penso almeno un'altra oretta veri non lo so immagino ok allora carica la partita in corso e quindi torniamo al nostro impavido gruppo di quattro avventurieri io purtroppo non so se riesco a vedere anche la live io vorrei anche vedere la live oltre al invece l'unità o dashboard maledetto cellulare che non serve a niente eh lo vedi vabbè niente guardo la chat e via se ci sono problemi me lo dite voi mi serve il vostro feedback perché allora come vedete qui il gioco ha un'interfaccia che è molto più amichevole cliccando su un personaggio posso vedere il suo inventario e il suo inventario questa volta ha una componente visiva non solo testuale quindi se prima io mi dovevo ricordare chi ha equipaggiato l'armatura chi ha gli stivali chi ha questo chi ha quell'altro eccetera qui invece lui me lo fa proprio vedere quindi mi fa vedere che il mio Ragnar che non si dovrebbe chiamare Ragnar ma in un altro modo ha un'armatura di cuoio una spada corta guardate che armi di merda che mi ha dato senza darmi la possibilità di comprarle ok e e un paio di stivali in più ha una pared traverso dei proiettili e un simbolo sacro che è quello del paladino poi ha delle razioni perché i personaggi qui hanno bisogno di mangiare altrimenti muoiono di fame vedete che c'è una barra del cibo che va consumandosi anche gli altri vedete Jorin ha un'armatura di cuoio anche lei poi ha una mazza ha un simbolo sacro e razioni da viaggio poi Elistar che è il mago ha una tunica ha un pugnale ha un libro degli incantesimi e razioni da viaggio e Kendra che è la ladra ha invece una spada corta un'armatura di cuoio una paredra per delle frecce e razioni da viaggio e attrezzi da scasso per per le serrature ok bene almeno le scarpe ci sono e si non andiamo a piedi nudi nel dungeon allora il gioco ha una pseudo visuale in prima persona nel senso che io vedo quello che vede il mio gruppo in particolare quello che vedo nei personaggi che stanno davanti posso scegliere volendo di scambiare la posizione di un personaggio con quella di un altro perché ovviamente i personaggi che stanno davanti sono quelli che prenderanno le botte se il gruppo viene attaccato frontalmente mentre invece se mi attaccano alle spalle saranno quelli dietro ad essere colpiti quindi ovviamente io metto davanti quelli che sono più portati a subire diciamo che hanno più più punti ferita che sono più robusti diciamo e in realtà tra le preferenze del gioco posso decidere se visualizzare la barra della vita per i personaggi oppure i punti vita quindi il mio paladino ha 10 punti vita la chierica ne ha 19 il mago ne ha 9 e la ladra 22 non capisco come il paladino sia così inguaiato come punti vita è un abominio vabbè potrei doverlo rifare allora altro elemento importante dobbiamo far memorizzare gli incantesimi ai nostri maghi ora lo sto comprendendo un po' di più all'inizio non lo comprendevo beh Alexis tu hai giocato a D&D comunque quindi anche se le regole sono non lo so perché il paladino tradisce HP ma mi viene voglia di buttarlo via rifare il gruppo e ripartire con un guerriero a sto punto guarda vediamo se posso farlo questo paladino è morto è morto alla nascita praticamente perché oh 10 punti vita non va da nessuna parte ciccio io ti avevo fatto perché pensavo che fosse un guerriero ma a questo punto lo butto via e ci metto un mano se lo posso fare se no rifacciamo il gruppo così come boh drop character non puoi avere meno di 4 personaggi eh ho capito e allora li dovrò rifare mi invitano su Dota buona partita Nick a presto si cancello la partita e la rifaccio perché ovviamente vorrei poter mantenere gli altri 3 se no li rifacciamo a tempo di record dai tanto col fatto che posso modificare i punteggi non avrò questo problema ok allora esci game options quit game si partiamo stavolta di fare grado che mi facessi saltare la presentazione ok start e new party e niente non posso farlo vabbè allora rifacciamo il primo personaggio stavolta ci mettiamo un bel nano fighter così ben costituito ecco è lui proprio lui non sto a rirollare le modifico direttamente forza 18 mamma il dos eh lo so ho fatto scendere lacrime anche a me 18 81 non ti pago per pensare ti pago per lavorare quindi intelligenza 10 saggezza 13 destrezza 16 costituzione 18 anzi 19 carisma 11 ok il nano lo chiamiamo tagor no perché tagor non va bene tagor chiamiamolo zurin ok la seconda andava bene come l'abbiamo fatta quindi sacerdotessa local good andava bene a gnoccuna bionda non ritirare modifica direttamente allora forza 16 anzi 17 intelligenza 12 saggezza 18 carisma 17 costituzione 16 destrezza 10 ok gimli dai no no gnauz non voglio usare nomi nomi presi da altri devono essere nomi che siano credibili ma non carino il fatto che tu possa modificare il personaggio è perché questi veri sono personaggi di dnd cioè sono come quelli che creeresti al tavolo e metteresti poi in un gruppo per giocare a dungeons and dragons allora il terzo abbiamo detto che era un maschio mezzelfo mago puro chaotic good lo facciamo sì e abbiamo scelto mettiamoci questo va ritirano modifica allora la forza va bene 10 intelligenza deve essere 18 la saggezza 18 la destrezza la mettiamo 15 la costituzione 16 e il carisma 15 ok si mantieni tu chi eri come si chiamava statizio eristar ok e l'ultimo invece che cosa era l'ultimo avevo fatto un ladro una ladra elfa si ladra pura ok chaotic good anche lei e la codesta roscia qui modifica e quindi forza va bene 13 intelligenza ce ne devi avere un po' facciamo 16 saggezza va bene 14 destrezza 19 costituzione 17 e carisma 16 ok a 9 di hp ma 9 andavano bene è un mago quanti ne devi avere è già tantissimo questa invece ne ha 18 ok hip come si chiamava questa che andrà ok a posto play la rossa delle sovracciglia notevoli eh si va bene allora ragazzi è molto importante che gli incantatori del gruppo e cioè la sacerdotessa e il mago preparino i loro incantesimi quindi facciamo subito un accampamento memorize e per i maghi allora il mago memorizza i suoi incantesimi e questo è un mago serio a differenza di quel cretino che avevamo su pull of radians questo ha due incantesimi rimasti e quindi gli mettiamo due darti incantati che per il momento sono la scelta migliore al secondo livello può avere una freccia cita di melf quindi facciamo il classico mago da combattimento e va bene così la sacerdotessa invece che può preparare tre incantesimi no quattro incantesimi al primo livello avrà una benedizione due cura ferite leggere e un detect magic ok perfetto per poter preparare gli incantesimi i maghi hanno bisogno di essere completamente riposati quindi facciamo un riposo rest party per le prime otto ore a questo punto vengono memorizzati tutti gli incantesimi del caso a questo punto salviamo la partita perfetto ciò detto possiamo cominciare ad esplorare questo dungeon che poi è i suoni sotterranei della città quindi di fatto era una specie di condotto fognario quello in cui allora questo rumore che sentite cominciano a raccogliere i sassi che ci saranno molto utili intanto possono essere lanciati vedete questi sono gli slot della cintura quindi possiamo mettere qui le cose della cintura ok e questo gioco risale dal 90 91 non mi ricordo comunque all'epoca era il meglio del meglio qualcosa di allora come vedete le stanze sono fatte con la visuale in prima persona cioè come le vedrebbe il nostro gruppo e sono fatte a caselle quadrate cioè ogni movimento è una casella quadrata quindi posso orientare la visuale del mio gruppo girandomi sul posto oppure spostandomi lateralmente oppure avanzando indietreggiando ho 6 opzioni di movimento a disposizione dovrò fare in modo che il mio gruppo fronteggi nemici questa qui è una leva che apre la porta qui ci sono delle ossa con degli attrezzi da scasso che la mia ladra recupererà questo è un coboldo cominciamo ad attaccarlo vedete il nano gli ha fatto 12 punti ferita se ne aveva 4 erano tantissimi eh lo ha praticamente spappolato qui ci sono delle ossa le ossa possono tornare utili teniamoci ok andiamo in giro esploriamo questa stanza e io non ero neanche pianificata eh lo so lo so è uno dei motivi per cui non possiamo sposarci veri vedi ti sei risposta naturalmente ragazzi il gioco non traccia da solo la mappa la mappa la devo sapere io in teoria la dovrei disegnare nella pratica ne ho scaricata una che tengo qui davanti a me ed era il motivo per cui avevo bisogno di come dire di avere visuale del mio secondo schermo anche se lui me la distorce qui c'è una runa questa runa non è riconosciuta quindi vuol dire che nessuno dei miei personaggi può capire che cos'è questa porta c'ha un pulsante quindi un altro e un mino oltro ok vedete le pareti vanno comunque esplorate e tenute d'occhio perché ci possono stare pulsanti une, simboli cose che in qualche modo influenzano il gioco oh guarda quanti sono vedete la ladra da dietro può tirare i sassi e colpirli anche il mago può intervenire lanciando un incantesimo dardo incantato vedete questo roietti le parte colpisce e fa danno ovviamente come il nano mai nessuno abbiamo recuperato un pugnale che finirà nella scorta della cintura del mio ladro il sasso che ho lanciato lo riprendiamo poi c'è una pergamena di detect magic questo la diamo al chierico e poi un altro pugnale perfetto quindi vedete che il nostro ladro anche stando in seconda fila e quindi non essendo direttamente vulnerabile agli attacchi può comunque usare armi da lancio e perché il ladro perché il ladro ha la destrezza più alta quindi è quello che ha più probabilità di colpire i nemici da lontano qui abbiamo delle razioni cominciamo a distribuirle equamente tra i personaggi partendo dal guerriero quindi man mano che le troviamo le assegniamo nei componenti del gruppo per il momento è esplorazione allo stato brato non ho una direzione preferenziale nella quale andare qui però ci sono delle orribili sanguisuglie anche fermi schifosi che fortunatamente cascano come mosche sotto i colpi del nostro guerriero quello che state vedendo ragazzi è molto simile a quello che accadrebbe in un gruppo al tavolo cioè i personaggi davanti sono quelli che hanno le migliori possibilità di colpire e hanno anche non si vede adesso ma lo vedrete in seguito la migliore armatura quindi quelli che reggono meglio uno scontro fisico Jorin ha guadagnato un livello di esperienza perfetto quindi al prossimo riposo potrà acquisire nuovi incantesimi probabilmente sento questo strisciare troppo vicino non abbiamo una mappa ma abbiamo una bussola quindi sappiamo come ci dobbiamo muovere all'interno delle stanze e quali sono le direzioni già intraprese e qui c'è un comporto due comporti altri pugnali ragazzi perché mettere gli animali che vuol dire? in realtà nel gioco di Dungeons & Dragons ci sono i mostri cioè i personaggi possono incontrare tanto altri umani brutti e cattivi quanto possono avere a che fare con bestie selvagge animali mostri questa è una pergamena con armatura magica e mi può servire questa è invece una pergamena clericale di bless allora facciamo così pergamena terchierico valchierico e questa rimane al mago posso trascrivere gli incantesimi che non ho sul libro facendo così scribe scrolls ecco armor è un incantesimo che non conosco quindi lo prendo dalla pergamena la pergamena si consuma ma l'incantesimo appare sul mio libro magico ok? come accade nel gioco di D&D in D&D il mago che trova una pergamena può decidere di trascriverla sul suo libro quindi la pergamena si cancella sparisce però l'incantesimo rimane sul libro e va ad espandere la lista di incantesimi che il mago può scegliere di memorizzare all'inizio della giornata allora qui c'è una pergamena cioè una porta con una petana che si apre passandoci sopra siamo tornati alla prima porta sappi che ti ho preferito alla partita del corazzone grande allora tutta la mia stima non so neanche che partita c'è ok adesso devo cominciare ad orientarmi usando la mappa perché altrimenti non mi vengo più fuori so dove sono ma non so dove voglio andare ve lo dico chiaramente ragazzi quando ho finito il gioco la prima volta le mappe le ho disegnate io tutte quante casella per casella è stata la cosa che ha risolungo e difficile questo gioco perché se sai già il percorso non è complicato cioè in realtà è complicato lo stesso perché devi comunque cercare gli oggetti devi sconfiggere i mostri devi essere tattico però non diventa uno stilicidio disegnando le mappe da soli invece si ok per questo lungo corrigoio in direzione est credo di aver capito dove sono sta giocando la Polonia ah e con chi gioca la Polonia non so neanche questo ci sono altri cobolti prepariamoci a combattere quanti sono ok per fortuna sono deboli di solito un colpo e vanno giù sto raccattando parecchi pugnati portogallo lo scopo di questo gioco come ci è stato detto nell'introduzione i nostri eroi sono stati mandati qua dentro cioè nei sotterranei della città di Waterdeep per cercare la fonte di uno scuro male che si annida qua dentro e che sta minacciando la città quindi noi siamo entrati passando dall'ingresso delle fogne ma i cattivi ci stavano spiando attraverso una sfera di cristallo e quando ci hanno visto entrare hanno fatto franare con un incantesimo l'ingresso del sotterraneo quindi ora siamo bloccati qua dentro e non abbiamo possibilità di tornare indietro possiamo solo andare avanti anche perché le scorte di cibo non dureranno in eterno questa porta necessita che la piastra venga mantenuta abbassata e quindi le famose ossa si tornano utili qua mettiamo una pietra anche in mano al mago anche se non è che gli serva tanto il mago non ha un'alta destrezza quindi non è un personaggio adatto a lanciare cose a distanza nelle nuove edizioni di D&D invece la destrezza diventa una caratteristica importante per il mago perché i proiettili evocati magicamente che poi vengono scagliati ad un nemico devono colpire il bersaglio e quindi il mago ha comunque bisogno di essere performante nel lancio di proiettili anche se non quelli fisici ma magici ok proseguiamo come vedete le pareti del dungeon sono in mattoni rossi come si addice ai sotterranei di una città il mio chiedico è stato colpito abbiamo un altro di questi mostri non puoi mettere lì quell'oggetto perché annulliamo l'incantesimo andiamo avanti ovviamente uccidere i mostri ci porta punti esperienza per cui anche il fatto di combattere è una cosa che ha la sua utilità anche laddove non sembra necessario cioè io potrei tranquillamente evitare alcuni mostri ma cercherò di combatterli lo stesso perché mi danno punti esperienza ti viene l'ansia con questo movimento ma per chi esattamente perché è in prima persona perché ha scatti perché non ti rendi conto di dove sto guardando veramente cioè di come mi sto girando qual è il problema allora intanto ho trovato la scala ho trovato la scala per il secondo livello quindi potrei cominciare a scendere la porta si chiude se questa cosa non è già premuta ladri ok adesso sì adesso posso scendere ma non è quello che intendo fare adesso perché non potrei non aver finito con l'esplorazione di questo livello cerchiamo di capire un attimo dove sono scusate ma devo guardare la mappa se no se no mi perdo ok no che diavolo è successo adesso ah che devo fare altri più inviuti ok allora no questo è andato a finire il mio campo visivo scusate ma devo devo abbattere questa finestra ok sì adesso finalmente so dove sono dunque dobbiamo tornare indietro perché ci sono delle stanze che non ho ancora esplorato quindi dirigiamoci di qua questo apre una porta ok a sinistra c'è una stanza ma credo di esserci già stato esploriamolo in dettaglio sì quasi infatti qui c'erano dei tesori che ho raccolto prima ok bene adesso che sono tornato qua andiamo in questa direzione ok alla mia destra c'è un pulsante qui avanti ci dovrebbe essere una stanza ok e basta però qui non c'è più niente di qua sto tornando all'ingresso io sento ancora dei passi quindi so che ci sono dei coboldi in giro vedete quanto era importante l'audio che all'epoca quasi non esisteva nei videogiochi questo gioco lo potevi giocare anzi nella maggior parte dei casi lo giocavi senza audio perché se non avevi una sound blaster ti potevi dimenticare i suoni invece i suoni sono importanti perché anche se lo puoi giocare pure in silenzio cioè senza effetti sonori gli effetti sonori ti fanno capire cose signore e signori uno scudo lo scudo è una miglioria che mi consente di potenziare l'armatura del mio guerriero nano ok reggere uno scudo in mano no non hai una visuale a 360 gradi e non devi averla perché in realtà tu devi sapere da te se ti stanno attaccando alle spalle oppure no nel frattempo la mia sacerdotessa potrebbe lanciare un cura ferite leggere per curarsi alle ferite che ha subito e recuperare una parte dei danni ok dopodiché andiamo avanti allora siamo ritornati all'uscita ma c'è ancora un ramo da esplorare aspetta che è questo devo andare prima di qua poi girare a destra più che altro per le stanze eh lo so sì ci dovrebbe essere un corridoio molto lungo che però poi gira verso est e allora ho sbagliato strada devo tornare indietro allora qui sono all'uscita cioè alla scala che scende se entri in uno stanzone riesci a vedere gli oggetti solo se sono un minimo in prospettiva lo so ma in realtà poi considera che il gioco è basato invece su una visuale a caselle quindi in realtà eh lui ti fa vedere quello che hai davanti e per tutto il resto ti devi girare lui poi fa i calcoli su cosa sta dove allora mhm questa è la prima stanza quindi dalla seconda stanza c'è il pulsante si gira a destra ok e qui subito sulla destra ci dovrebbe essere un lungo corridoio esatto questo lungo corridoio porta ad una stanza dove c'è una leva questa ok questa leva in realtà apre questa porta che conduce ad una stanza dove c'è un'uscita ok e qui c'è un corridoio doppio questo corridoio ha due porte una a destra e una a sinistra e questa è la porta in grado perché qui non sono ancora stato e infatti ci sono i mostri è arrivato il momento di usare la potentissima freccia acida di Melf che però ha mancato il bersaglio il mio mago è un caprone ha tirato i proiettili fortunatamente invece il nano è molto più bravo a squartare i coboldi con la sua ascia e quindi tiene bamb tiene botta vediamo un po' se riusciamo a ricostituire la cintura della ladra mettendo tutti i pugnali al loro posto ok questa è l'ultima stanza da visitare terminata questa il primo livello è finito però anche qui ci sono dei c'è del cibo quindi noi ci mettiamo il cibo in tasca non ho per questo livello non ho tenuto conto del di cose che non ho tenuto conto mi sono perso perché stavo seguendo la strada e aspettate che la seguo un altro po' se no mi perdo tra l'altro non sono proprio finiti c'è ancora qualcuno però il suono è così ovattato che secondo me viene da dietro la porta con le vostre scusate il discorso lo completo più tardi perché se perdo il filo di quello che sto facendo se vado a destra di qua dovrei incontrare qualcosa dico bene e cosa c'è a ovest che poi mi fa andare a nord no mi sono aspettate ho perso no sono tornato all'uscita ok e sono tornato all'uscita si ho capito perché comunque l'atmosfera è rimasta inalterata ah si quello si lo guardi adesso ecco adesso sto andando verso est si quindi dovrò andare di qua qui non ci doveva essere questa porta però questo è un vicolo cieco in direzione nord però non esiste un remake di questo gioco no un remake no però esistono giochi che sono stati fatti in tempi molto più recenti ispirandosi a questo ispirandosi a questo vi faccio vedere uno scampolo di un gioco come questo fatto in tempi recenti subito prima di chiudere la live quindi vado avanti faccio il secondo livello e poi non tutto il secondo livello perché non avrò il tempo però andiamo avanti un altro pochino e poi vi faccio vedere un pezzettino di quest'altro gioco prima di chiudere tutto e andarmene a cena torniamo all'uscita e quindi però devo andare a ovest scusate ho sbagliato strada ecco qua allora prima di scendere facciamo riposare i membri del gruppo questo è il nonno di quello che giochi adesso esatto esatto perché in realtà i dungeon crawler così come li conosciamo sono partiti di qua prima di questo c'era full of radians quello che vi ho fatto vedere prima ok però ragazzi questo gioco è ambientato nei forgotten realms stiamo parlando sempre di ferun anzi in particolare questo è il sottosuolo di ferun questo gioco ragazzi è entrato a tal punto nella storia che la trama di questo gioco è stata inserita fra gli elementi ufficiali dell'ambientazione quando è stata fatta la versione di forgotten realms per la terza edizione quindi i personaggi che incontriamo qui in particolare uno poi sono dei personaggi dell'ambientazione allora riposiamoci i tuoi guaritori devono curare il gruppo? sì vuol dire che il riposo potrebbe durare più di 8 ore perché al termine delle 8 ore il chierico riprepara degli incantesimi per curare e li lancia se non bastano il gruppo si riposa di nuovo se non bastano il gruppo si riposa di nuovo fino a che non sono tutti a piena salute ovviamente questo si può fare finché non ci sono mostri nei dintorni quindi si va di 8 ore in 8 ore al termine della 24esima ora tutti i personaggi sono stati curati e possiamo salvare la partita sì dopodiché io shifto la mappa al secondo livello ripeto la mappa non avendola su internet te la potresti disegnare da solo ma questo renderebbe il gioco immensamente più lungo e difficile no non così nella maniera più astoruta non così ho detto di no e allora più di questo non riusciamo a fare ok vabbè non leggerò le scritte ma non importa andrò a memoria per questo questo deve sparire e questo va messo tutto scherzo è di una scomodità unica però sì veri esatto veri se fossi passata prima ti avrei fatto vedere invece un altro gioco che ho giocato prima dove dovevi fare tutto a mano dovevi tener conto esattamente come nel gioco da tavolo di tutto quello che succedeva ai personaggi quindi se non avevano un'arma dovevi andargliela a comprare una volta comprata gliela dovevi equipaggiare se non l'avevano equipaggiata in combattimento non la potevi usare invece in questo caso lui ti viene un po' incontro perché sennò il gioco diventa troppo complicato allora siamo scesi ok e troviamo immediatamente una chiave d'argento ok bene guardiamoci intorno si sentono dei passi allora la serratura può essere aperta con la chiave ma posso provare a farla scassinare dal mio ladro di fiducia che però fallisce e che cavolo oggi mi riuscivano tutti ma il ladro era un halfling stop mi devo fermare se no rompo gli attrezzi questa serratura non vuole saperne riaprirsi proviamo a scassinare questa la mia ladra è in serie di difficoltà ma alla fine riesce ad aprire la porta senza la chiave perché questo perché le chiavi sono in numero limitato quindi se le consumiamo poi rischiamo di non avere qui c'è un oggetto molto interessante una fionda non riesco a raccoglierla per qualche oscuro motivo la fionda mi consente di fare più danni quando lancio i sassi ovviamente non me la fa usare perché è un'arma a due mani presuppongo ma la spada corta alla mia ladra non serve visto che non sta combattendo dalla prima fila quindi mettiamo la fionda in mano e adesso potremo lanciare i sassi come proiettili gli hai messo poca intelligenza alla ladra e può darsi vabbè però insomma ragazzi non tutti i personaggi possono avere tutti i 18 perché quando li tirate al tavolo non ve lo fanno fare il personaggio tutti i 18 cosa ne pensiate di Legends of Valor il nome mi dice qualcosa ma non me lo ricordo devo essere onesto allora qui c'è un simbolo che sembra una runa del viaggio la runa del viaggio viene messa su pareti che in realtà sono illusorie se io vado avanti posso passare attraverso la parete trovo un nascondiglio dentro una pergamena di scudo lo scudo è un incantesimo che posso trascrivere alla ladra serve? vabbè ma non tutti i ladri possono essere Albert Einstein la mia ladra accetterà di avere delle difficoltà perché non è così intelligente non le fa a caso le fa come le fa quando poi aumenta di livello diventerà comunque più brava a scassinare la serratura però al primo livello non sarà non sarà Rita Levi Montalcini peccato forse tra poco sarà il caso di farli mangiare cominciamo a fare un pasto con questa roba che ho trovato prima che ci affamiamo troppo ok tipo io in matematica ma non dire sciocchezze tu sei brava in matematica ormai ne ho le prove allora vediamo un po' cosa dovevo fare qui trascrivere la pergamena quindi scribe scrolls non hai pergamene di cui questo mago ha bisogno ma davvero perché ce l'avevo già lo scudo davvero sì ce l'ho già lo scudo ok va bene sto al triplo prodotto e il triplo prodotto si può dare qualche difficoltà ok allora la nappa di questo posto non è chiarissima però mi posso orientare con le direzioni andiamo verso S questo ci riporterà al corridoio di partenza vero? no qui c'è un'altra runa del viaggio e qui ci sono delle frecce non ho ancora un arco ma comincio ad accumularle per quando sarà il momento come vedete il gioco ci ha fatto partire veramente il cubo di un binomio torna già malefico no? il cubo di un binomio è più facile vedete che il gioco mi ha fatto partire veramente con i personaggi in mutande perché allora io sento dei passi in questo livello ma e qui viene l'ansia non ho modo di sapere cioè io lo so ma voi no da quali mostri è popolato e il bello di questo gioco è che a ogni livello tu hai questa questo patema d'animo di non sapere che cosa incontrerai in questo livello dammi una pietra per favore mettila qua tirami un faffo che cosa? un faffo una pietra ah non vedo proprio cosa potrebbe spingermi a tirare un faffo una bella donna sono off stato a letto con tutti ma non ci vengo con te per non rovinare la nostra splendida amicifia ok allora questi li abbiamo compresati devo solo riuscire a capire dove sono però una risata una risata roca riecheggia debolmente qua cominciano a sterviti gugnali una voce sussurrante dice illusione illusione solida ipoteticamente mi ha chiudo qua dentro di fatto posso ancora uscire perfetto allora la caratteristica di questo livello è che le pareti sono illusorie cioè ci sono una serie di muri finti attraverso i quali posso passare allora qui c'è la famosa porta che non voleva aprirsi ladra puoi fare qualcosa ecco qua vedi non sarà ridalevi i montalcini però se le dai tempo e pazienza ce la può fare a fare il suo mestiere la porta si blocca e quindi il nano la dovrà forzare perfetto zurin ha guadagnato un livello di esperienza e qui cominciamo a vedere i nostri nuovi nemici uno scheletro ragazzi lo scheletro però posso scacciarlo io ho presso una pietra chiedi con lancia benedizione e commettiamo vedete che il ladro è diventato più efficace adesso che può che può lanciare le pietre con la fionda e qui abbiamo trovato un'ascia un'ascia che potrei mettere come seconda arma al posto dello scudo però non me la fa usare da subito devo avanzare di qualche altro livello per poter usare la seconda arma ok zurin abbiamo trovato una pozione signori vediamo se è già identificata no è una pozione generica allora la diamo al mago e se la vede lui potrebbe essere un veleno quindi non è il caso di berla perché non sappiamo cosa fa ok abbiamo aperto la seconda porta quindi presumo che se siamo andati a sud aspetta in che direzione si apriva la porta questa porta in direzione nord addirittura ok sì allora ci troviamo qua e qui ci deve essere un'illusione vediamo se la scritta ci dice solo i forti riusciranno a passare che vuol dire che devo attaccare il muro no ah no era un riferimento alla porta bloccata per la quale serviva la prova di forza ok era questa perfetto quindi adesso che siamo passati di qua e qui non c'è niente possiamo comodamente andare di qua qui c'è un'altra di quelle di quelle di quelle incavature nel muro dove si può inserire un pugnale il pugnale ci va a pennello e quindi questa porta si apre dandovi la possibilità di premere il bottone e aprire una nuova strada signori vedete che figo cioè questo dungeon è vivo è progettato con molta cura anche questo avre un muro illusorio la porta è bloccata deve essere passata il chierico scaccia i non morti e il guerriero si uccide il gruppo tenta di forzare la porta ma non ci riesce vedete a volte è necessario tentare più volte qui c'è un'altra pozione questa volta è una pozione di forza dei giganti e quindi la diamo al guerriero invece il cibo è il turno del mago di prenderlo ok sento notifiche di cellulare ma del mio non mi pare perché non è arrivato niente nano malefico dovrei fare una tavola disegno tecnico pittorico ah ok vediamo dove siamo ok torniamo rapidamente indietro ritornare dopo al corrido iniziale ok a partire da qua andiamo giù la benedizione è finita ok qui c'è un'altra porta ok gli attrizi sono spezzati il che vuol dire che è arrivato curare la chiave ok qui c'è un fosso dobbiamo stare attenti a non cascarci dentro e qui c'è una scala che in realtà scende al livello successivo ma non è non è il il livello successivo ma è semplicemente il posto dove vai a finire se caschi nel fosso noi comunque lo esploriamo perché potrebbe contenere degli oggetti e infatti c'è una pozione pozione di cura questa la diamo al chirico vedete i miei personaggi collaborano non sarebbero in grado di sopravvivere da soli all'interno di questo posto ma le loro abilità messe insieme invece possono fare la differenza per riuscire a sopravvivere all'estremo pericolo in cui si sono andati a cacciare allora qui c'è una leva la leva chiude la fossa e quindi mi consente di passare ma invece il fosso successivo non è possibile chiuderlo da qua posso però farlo se prendo un pugnale e lo lancio il pugnale cadrà sulla piattaforma la piattaforma rimane premuta fai tu la tavola e no io il disegno non so neanche cosa sia è completamente è una cosa totalmente pulsa da me nel senso che non so disegnare non l'ho mai saputo fare la mancanza di qualsiasi tipo di capacità di disegno mi ha tenuto lontano da una una facoltà universitaria che forse potrebbe essere migliore di quella che ho scelto se vuoi la faccio io allora qua dobbiamo stare attenti a queste buche perché c'è tante altre cose ecco vogliamo vedere ecco qua qui c'è un'altra chiave fortunatamente la segniamo sempre al guerriero che tanto è quello che va davanti e quindi è quello che dovrà aprire le porte così evitiamo di dover passare gli oggetti da un personaggio all'altro questa strada è bloccata questa strada è bloccata eppure io sono sicuro che siamo nella direzione giusta non solo perché me l'ha detto la mappa ma anche perché me lo ricordo il percorso con le fosse è quello da quale si continua quindi ci sarà una parete illusoria da qualche parte qui siamo diretti a ovest quindi vuol dire che stiamo qua ok questo perché siamo passati attraverso la porta e allora no dobbiamo tornare indietro non so ancora come probabilmente ecco vi attraversando nello stesso ordine la parte con i buli no oibo e adesso come si passa di qua mi sono chiuso devo per forza scendere a piano di sotto nel modo più brutale costitibile non è vero posso fare così ci riprendiamo il pugnale che torna oh no non posso riprenderlo perché se no casco giù lasciamolo là torniamo allora qui c'erano le porte ok perfetto quindi attraversiamo questa porta e stiamo di nuovo nel corridoio ok adesso devo andare di qua qui c'è un'ampia stanza con un pugnale in fondo un pugnale di pietra attenzione questo non è un pugnale normale è un pugnale di pietra ok dopo di che passiamo di qua verso sud entriamo qua dentro stando molto attenti agli angoli perché ci sono dei nemici sento i passi dei nemici nei dintorni e infatti qui c'è una porta nessuno è in grado di forzare questa porta perché giustamente bisogna aprirla in un altro modo così dietro abbiamo una pozione di cura extra cura quindi ancora più forte e una una razione di cibo c'è altro? no d'accordo qui stiamo andando verso ovest e qui c'è il teletrasporto allora il teletrasporto mi porta direttamente all'uscita ma è inutile prenderlo adesso perché serve una chiave che tanto non ho quindi andiamo a cercare la chiave quando poi l'ho trovata magari torno a qui cominciamo ad aprire questo qui ci dovrebbe essere una scritta che dice livello di ingresso allora se agisco su questo la stanza sembra muoversi che c'è scritto adesso? correction facility ok qui ci sono un sacco di porte se riesco ad incastrarli nell'angolo devo dire non so se le asce mi serviranno a qualcosa probabilmente no i sassi invece si addirittura mi servirebbe un terzo sasso perché ok il primo scheletro è andato dardo è incantato ok abbiamo trovato degli elmi gli elmi vanno a vantaggio della classe dell'armatura come vedete queste cose adesso rispetto a pull of radiance non sono più visibili il gioco lo conosci come due tasche o sbaglio? non tutto black alcuni livelli si però altri no ok questo è uno dei sassi che stavo usando come proiettili ragazzi sono venuto qui solo per fare esperienza perché questo posto è un vicolo cieco però ci sono un sacco di mostri e se li scaccio col chierico posso ucciderli facilmente approfittando del fatto che loro reagiscono un turno più tardi ovviamente il nano deve fare il suo lavoro e colpire se no chierico lancia cura ferita chierico e ha curato pure un solo punto ferita sta scema vabbè pergamena di invisibilità questa è un'altra cosa che possiamo trascrivere non so cosa mi serve perché non mi ricordo come funziona l'invisibilità in questo gioco non penso che si possa fare su tutti i membri del gruppo qui c'è un'ascia che a chierico non serve il guerriero sta facendo una collezione di asce che non finisce più facciamo un altro incantesimo di cura non è stato un granché incantesimi secondo ne abbiamo ma non so se li ho preparati no ci dobbiamo rivotare un po' però possiamo combattere qualcos'altro prima questi stanno tutti a sinistra quindi è inutile ok dato che ci muoviamo ancora in un regime piuttosto libero in cui non abbiamo trovato oggetti magici questo elmo è boh il ladro me lo fa mettere quindi non è un elmo di metallo si vede abbiamo ancora questo e c'è un arco là dietro signori abbiamo trovato il nostro primo arco e potremmo farlo usare la ladra con le frecce vedete il ladro che finalmente usa l'arco e non rompe il cazzo mentre invece quello di prima ok altre asce che saranno bene lì l'arco però lo voglio prendere e lo diamo alla ladra al posto della pionda così le tre frecce che hai in tasca le potrà usare i sassi rimangono lì come arma secondaria però non potrò usare perché l'arco è un'arma a due mani quindi c'è altro? mi pare che qui abbiamo spazzolato tutto è arrivato il momento di far riposare il gruppo sì riposiamoci qua anche perché il chierico non è in buone condizioni però sistemiamo prima anche gli incantesimi allora il mago è a posto il chierico no perché non gli ho selezionato gli incantesimi secondo livello ne ha ben quattro che può usare allora ma forse anche di terzo no di terzo no allora aiuto è un incantesimo utilissimo ovviamente i punti feriti del soggetto blocca persone è utilissimo lama di fuoco è utile ok c'è anche un altro incantesimo di primo livello che possiamo usare e prendiamo un altro cura ferite che sicuramente fa il suo il suo lavoro rest party vuoi curare i membri del gruppo? sì eh quante ore vedete che il nano aveva un bel po' di ferite anche se non sembrava perché ovviamente tu vedi la barra ma ma sulla barra non vedi quali sono i numeri invece il nano ha 36 punti ferita quindi se sta a metà vuol dire che ne ha persi 18 e va lì a curare 18 punti ferita però diciamo che allora vedete che l'inizio non è stato traumatico come in pull of radiance cioè tu qui eh sì devi fare attenzione devi costruire il gruppo con un certo criterio però non è che devi rifare 30.000 volte i primi passi fino a che non incarri non incarri la cosa giusta perché allora adesso siamo alla sezione della morte quindi è quella dove 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 dovevamo arrivare perché c'è la chiave c'è anche una terza pietra che possiamo aggiungere al nostro carne di sassi per la fionda c'è una porta da forzare e una quantità di zombie dietro il bello della parete è che le frecce non sono oggetti singoli quindi possono essere messe tutte insieme finalmente il nano si fa avvalire con i sui 11 danni qui è la chiave d'oro guardiamo al mare dopo qui zombie sta fuggendo vedete le armi vedete le armi da tiro a cosa servono ora rigira recuperiamo le frecce e abbiamo la nostra chiave e abbiamo la nostra chiave in teoria abbiamo la possibilità di tornare cioè di passare al livello successivo ma continuiamo la nostra esplorazione andiamo di qua per esempio questi incantesimi che curano se no un punto ferita sono una dannazione perché in realtà la cura dell'incantesimo è casuale quindi esploriamo a ruota libera e troviamo altro cibo un guerriero che sta facendo una panza tanta di cibo ok tanto poi le razioni si possono condividere se qualcuno rimane a secco guardiamo diretti a nord ok quindi in realtà staremmo qua più o meno infatti orientiamoci un attimo per capire dove siamo tra dieci minuti stacco eye of the builder vi faccio vedere un pezzettino di the keep e poi giudo la live e qui ci sono degli stivali stivali che possono servire al ladro che non ce li ha invece il cibo lo diamo al mago la tua seconda razione e questa è una stanza che finisce con la parità a nord ok dove è che una stanza finisce con la parità a nord si ha anche una chiave e ha una porta a sud però sicuramente in questo corrigoio qui ok si quindi vuol dire che andando di qua dovrò prendere la prima svolta a destra questa e seguirla ma per chi ci ha trovato questo ah ok perché queste sono varie di finta qui non c'è un muro in realtà ok ok esatto questa porta va mantenuta chiuda con un sasso bombonale cioè la porta va mantenuta aperta in realtà non chiuse e qui ci sono altri nemici prima dietro la porta a oh Una collezione di asce Si va espandendo Eh ragazzi Pozione Ciao Dragonful Sto giocando Die of the Beholder Quello che potremmo definire Il padre spirituale Di tutti i dungeon crawlers A caselle quadrate Bene E a questo punto direi che ho finito Nel senso che possiamo intraprendere L'ultima strada Che è quella dell'uscita Avendo io trovato anche la chiave Pugnate me lo riprendo Grazie Ciao a tutti Quindi vediamo un po' Mi conviene andare fino in fondo Sì Devo arrivare all'estremità nord Qua giù Perfetto Qui c'è un altro zumbo C'era Il nano l'ha spazzato via Questo è chiuso Ok Che bravo il mio nano Devo dire che si stanno comportando bene Tutti e quattro Avevo fatto una partita Avevo iniziato una partita Di recente E Il mio vecchio gruppo Aveva fatto veramente pena Allora Questa è una stanza doppia Quindi Però Gira intorno a un pilastro Ok Allora Assento Quindi devo andare a ovest Da qua Da est Devo andare a est Ma non c'è la strada est Perché non c'è la strada est Tradimento Niente Questi cura ferite Allora Veri ha detto Che vuole giocare tutti gli Ai over the builder Oddio Tutti Già Già finito il primo Credo che sarebbe Un'impresa ciclopica Io non lo so Se avrò il coraggio Ragazzi Ripeto Dedicherò Questo filone Ai giochi Che sono stati tratti Da Da Dungeons and Dragons Però non li potrò finire tutti Perché sono troppo lunghi Questo ricorda I tempi andati Quando bisognava disegnarsi la mappa Con carta e matita È vero Infatti è quello che io ho fatto Quando ho finito il gioco La prima volta Adesso invece sto usando Comodamente una mappa Trattata da internet Così la live Non dura 712 milioni di ore Però È vero Comunque Era una strana sensazione Perché Paradossalmente Io l'ho fatto anche sul primo Fantasy Star Per esempio Paradossalmente Se tu disegni la mappa Da te E ci metti molto più tempo Però Giri molto meno a vuoto Cioè non ripassi tanto Per gli stessi posti Perché Avendo la mappa Sai già Quali sono i posti Dove sei già passato Poi lo faccio Discord E se non sto avendo molto tempo No no Tranquillo Non ti preoccupare Quando lo fai Avvisami Perché Così ti invito sul server Così ti invito sul server E il nostro nano Non riesce ad aprire Sta porta E rimaniamo bloccati qua Zomba in un'altra Scheletra Mo ce la fai? No Nessuno È in grado Di aprire questa porta Perché? Perché è chiusa a chiave Tutto chiaro Prima di aprirla Però Andiamo ad esplorare La stanza in fondo Dove non c'è assolutamente niente Che fredatura Dopodiché Apriamo questa porta Con la chiave d'oro E ci riposiamo Prima di scendere Al terzo livello Cosa che non faremo In realtà però Ma forreste parti Sì I curatori Curano il gruppo Tutti i personaggi Hanno riposato Salva la partita E fine Quindi per ora Ci fermiamo qua Con Iove the Beholder Sfrutterò gli ultimi minuti Per farvi vedere Un pezzettino Di The Keep Farvi capire Com'è fatto Un dungeon crawler Moderno Ispirato però A questo stile di gioco E chiaramente Sì Sto usando Dosbox Infatti vedi che adesso Chi dirò Di tornare al dos E sono di nuovo qua Adesso usciamo Dal nostro matrix Usciamo dal nostro matrix E diciamo Chiudo anche questa In 800x600 Non mi serve più Chiudo la mappa E rimetto E rimetto Al suo posto Dopodiché Facciamo un salto Veloce Su The Keep Cambiamo il nome Del gioco Non so se me lo ha cambiato Ma Twitch Twitch recepisce con un po' di ritardo Il cambiamento del nome Quindi probabilmente L'ha cambiato Ma io non lo vedo Facciamo play Ho una voglia matta Di rimanere in mano E lo so Lo so Perché Quando poi uno È affezionato Ah Do The Keep Si vede già Ok Evidentemente C'è qualche altra finestra Che si è convertita Allora Non è possibile Ricominciare da capo Eh no Io avrei voluto Ricominciarlo da zero Però Ok 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 Non c'è Dovrei cancellare il salvataggio a mano Se volessi ripartire da zero Vabbè Niente Allora Ah no Profilo Ecco qua Ricomincia partita Ok Si Difficoltà normale Morte permanente no Salta il tutorial Potrei saltarlo Ma Si Saltiamolo Va Però volevo farvi vedere l'intro Che invece è carina Felicerie hanno uno strano potere Nascono come storie innocenti Ma con il tempo Ed in seguito Le smentite agli interessati Possono distruggere un impero Forse è inutile che parli Così quando si diffuse la voce Che un mago scellerato Avesse preso il potere Nei pressi del villaggio d'Italia D'Alto Consiglio Prese la ventura Decisione possibile Scelse di non agire Negò qualunque cosa E quando nessun esploratore Tornò da quella regione La gente comune Iniziò presto ad interrogarsi Sulla capacità D'Alto Consiglio Di gestire la situazione Se fosse davvero in grado Di governare E dove l'Alto Consiglio Fallì Subentrarono altri Eroici soldati Raggiunzero Taldi Avera diventare il mago Studiosi senza scupo Li cercarono di capire La sua conoscenza I criminali fugirono E raggiunzero quel luogo Per soffrarsi Alla legge del regno Nessuno di loro Mai rischi Fu allora che Taldi Aggiunse un domane Il futuro Non appariva Articolarmente eroso Abbassiamo il volume È troppo alto Allora Come vedete Qui abbiamo un solo personaggio A sinistra Abbiamo uno squallidissimo Porta ritratti Contenendo un volto Discretamente Beota Il nostro A destra Ci sono le caratteristiche Del personaggio Quindi esperienza Capacità di combattimento In mischia Capacità di lancio Delle magie Statistiche del personaggio Quindi vita Mana Resistenza Punti disponibili Forza Intelligenza Destrezza Armature Attacco Come in tutti i sani giochi di ruolo Nelle caratteristiche Per le caratteristiche Mi viene fornita una descrizione Quindi Forza Determina la vita E la potenza degli attacchi Intelligenza Determina il mana E la potenza degli incantesimi La destrezza Determina la resistenza E permette una rigenerazione Più rapida della vita L'armatura completa Formata da tutti gli oggetti Equipaggiati Attacco Il massimo di danni Che puoi infliggere Con l'arma equipaggiata Abbiamo tre punti disponibili Io direi Un punto a forza Ci vuole Un punto a intelligenza E un punto a destrezza Ci facciamo un avanzamento Bilanciato Vedete che la grafica È molto migliorata Ma il concetto del gioco È esattamente lo stesso Muoversi In uno spazio isometrico A caselle Ok Girandosi In questo caso Posso girarmi anche In sei direzioni Come prima Non ho una torcia Quindi non vedo un pifero La mappa Me la disegna lui E ci sono un po' Di caratteristiche Interessanti Allora qui c'è una torcia Posso prenderla con Stacco la torcia Da un'altra E la prendo in mano Adesso posso illuminare Gli ambiti Qui ci sono Delle tappole Se tolgo la torcia Da qua Succede qualcosa Vedo Preferisci le sei direzioni No no Invece questo È più pratico Ma è uguale Cioè solo che Qui sto con i tasti Invece di avere Le freccette Da cliccare col mouse Però Una vetrata Con il 200EA Una vetrata Con un ragno Ok Qui c'è un bracere Dove forse posso Accendere la torcia Qui c'è un'altra vetrata Che è molto legale Alla porta si chiude Dove un po' Quindi vuol dire Ah no C'è la leva Per aprirla Da questo lato Ok Non rimarrò Chiuso dentro Qui c'è una chiave Che guarda un po' A cosa servirà mai Ok Sento acqua che scorre C'è una fontana Questa fontana Servirà a qualcosa Boh Sosso E i tasti stanno lì Per un motivo Questo mi sa di trappola Fontano 20 miglia Quindi se levo Per il sasso Scatterà un dardo Faccio Tanti Vogliamo toccarlo Anche se in realtà Ecco Se la piastra è già premuta Ci puoi passare sopra Senza far scattare la trappola Perfetto Qui c'è ancora Questi inquietanti aracnide Ah Ma quando imparerete Chiunque giunga qui Muore Ma ne arrivano sempre altri E' coraggio il vostro? Tenacia? No Solo pura e semplice stupidità Gli abitanti del villaggio Dove sono? Oh Dunque tu saresti l'eroe A cui non interessano Nei cristalli Nei mie conoscenze Spinto solo Dalla nobilissima necessità Di salvare il mondo Ciao Dragonful Grazie di essere passato Sai cosa? Mi piace Noi due Mio caro eroe Ci faremo una bella Chiacchierata Prima che tu muoia Sono un tantino occupato Al momento Ma c'è un posto perfetto Dove vuoi aspettarmi Capitolo 2 Prigione Colui che non può essere domato E vabbè Ragazzi questo è Potrei continuarlo ma Ci fermiamo qui perché volevo solo farvi vedere com'era Vedete? Cambia la grafica Cambiano Le prigioni Le prigioni hanno un lato positivo Ti danno molto tempo per pensare Forse avrei dovuto gestire un po' meglio il mio incontro con Wotris Evitare di finire in prigione sarebbe stato di sicuro molto più saggio È vero l'ho sottovalutato Ma lui ha fatto lo stesso con me Sono stato ferito, picchiato e segnato da incantesimi Sono stato battuto e dato per morto Ho già visto una prigione prima d'ora Ma sono ancora vivo Hai fatto la tua mossa Wotris Ora tocca a me Adesso sono in una cella E devo trovare il modo di uscirmene Non c'è niente Solo catene e un giaciglio Interessante Vediamo se tra le pareti c'è qualcosa di anomalo No Però posso provare ad attaccare le bar Ok Là dove sono più fragili Ok Si è staccato Devo trovare un'arma per sconfiggere quella guardia Forse quella torcia farà al caso mio Grazie a tutti Perl Per un velo Chiave di ferro Pozione di resistenza Speriamo che funzioni Sì Ok Siamo fuori Qui c'è la chiave No, volevo solo farvi vedere Questo pecuriare sistema di combattimento Che sfrutta le direzioni Cioè io devo infliggere il colpo Lungo una particolare direzione Su cui voglio colpire Questo Premi il pulsante per chiamare la guardia Non ci penso nemmeno Cioè il l'olfare in realtà però A suo tempo Qui c'è un ratto Il ratto che le insegno a giare La pietra forse posso usarla Come arma da lancio Contro i nemici bassi Devo usare attacchi bassi Altrimenti manco il bersaglio Libertà Eccolo che arriva Gli posso tirare Questa cosa in fronte Sì Vabbè Buono così Pugnale arrugginito Qui serve una chiave Che dice Uscita Ok Quindi dobbiamo trovare la chiave Per poter uscire Ingresso Uno alla volta Pugnale arrugginito Per poter uscire Per poter uscire Per poter uscire Na parha Sì! Via! Puntamiamo. E nel frattempo predisponiamo. Ok, con il pugnale andiamo meglio. È un'arma in grado di infliggere più danno. Ed è anche più veloce, quindi abbiamo poche difficoltà. Questa è la chiave per l'uscita. E abbiamo anche uno scrigno, se non sbaglio. Che contiene due rune. Ok. Allora, le rune vanno messe qua. Però da sole non mi servono, se non trovo una formula magica non potrò lanciare incantesimi. Qui forse c'è una formula magica. Pergamena della palla di fuoco, eccola qua. Allora, manca una runa, però. The Keep, ciao Gnaud, vedo che lo conosci allora. Ci avevi giocato sul DS oppure... Le porte del magazzino sono chiusi per motivi di sicurezza. Ratti. Eccola qua, questa è la runa del combattimento. Ok. Adesso lo deve essere in grado. Mangiare in grandissimi, perfetto. Qui che succede? Riporta la chiave dell'uscita, ok. In realtà io poi non mi ricordo se c'era altro, eh. Qui non sono andato. Ah, non lo conosci? Hai notato che siamo al terzo? Ok. Questo gioco è uscito per Nintendo DS. Infatti vedi che ha un'interfaccia che è squisitamente pensata per tattili. Ok. Ufficio del Capitano Drake. Ciao Capitano Drake. Guarda un po' chi è fuggito dalla cella. Sono felice che tu l'abbia fatto. Non ho la possibilità di combattere con molte persone qui sotto. Il prezioso acciaio arisiano della mia lama ha sede di sangue. Questa è la parte in cui tu mi lasci passare e speri che non torni da te dopo che avrò finito con Wotris. Ha ha! Hai fegato per essere un uomo morto! Ok. Grazie per la chiave. Vediamo se il suo ufficio conteneva qualcosa di interessante. Un armadio con un'altra chiave. Ottimo. Perché vuol dire che posso aprire questo. Ma nella chiave è tu, sempre questo. Cosa è questa? Un'armatura? Figo. Ok. Armatura da soldato. Questa armatura standard potenzia la tua armatura di 6 punti. Buono a sapersi. Qui non c'è niente, credo. Non è vero. Sono scomparto dentro una pozione curatica minore. Ok. E qui sul tavolo c'è una pozione di mana minore. Ok. Le candele lasciamo dove sono. Armeria. Ok. Perfetto. Adesso questo mi ricorda Neverwinter Nights 2. È stata una bella presentazione. Grazie Gnaud. Sono contento allora. Sono soddisfatto. Tra l'altro sto per chiudere. Sono qui giusto per sport ma adesso... Completiamo questo livello e poi... E poi finiamo. Volevo farvi vedere il combattimento e la magia. Per quello mi sono portato un po' avanti. Ok. Qui abbiamo un'altra guardia. Suonate l'allarme. Il prigioniero sta scappando. Chiudete il cancello della torre. Bene. Vediamo cosa c'è qui sotto. Appena avrò finito con te. Abilità in mischia migliorata. Perché naturalmente combattendo... Usare un solo personaggio. Sì. Qui il personaggio è uno solo infatti. Ok. E allora niente. Le guardie stanno là. Non c'è modo di attaccarle. In teoria sarei arrivato all'ingresso per scendere. Va bene. Salviamo la partita. E chiudiamo qua. Bene ragazzi. Aspettate che... Usciamo. E ci salutiamo da qua. Perfetto. Bene. Allora. È stata una lunga carrellata con la quale io vi ho fatto vedere, partendo fin dal regolamento cartaceo, come è partito, diciamo, il mondo dei giochi dedicati a Dungeons & Dragons. Naturalmente ce ne sono molti altri. Io non so se nella prossima di queste live continuerò Eye of the Beholder. Potrei anche farlo, eh. Perché, diciamo, Eye of the Beholder, se giocato con una mappa accanto e sensato per la tracciare, potrebbe essere streammato e portato in live. Dubito fortemente che si potrebbe fare con i seguiti perché sono veramente troppo lunghi. Darkmoon e Shadows of Middranor, come si chiama lui, sono veramente enormi. Come mappe, come estensione, come enigmi da risolvere, come cose da fare. Penso che sarebbe anche un po' tedioso. Io mi sono divertito a giocarli, però erano altri tempi, avevo un'altra testa e mi piacevano moltissimo i giochi tratti da D&D solo per il fatto di essere tratti da D&D. Non escludo, ragazzi, che farò una puntatina su Baldur's Gate, ci dovrò passare per forza perché non è possibile ignorarlo. Però anche lì l'idea di streamarlo tutto è abbastanza fuori dal mondo. Tra l'altro nel mio caso è aggravata dal fatto che io non l'ho mai finito, quindi dovrei streamarne una buona parte in Blind Run e lo stesso vale per il secondo. Potrebbe però valere la pena di farlo, intanto perché si tratta di una pietra miliare, è un pilastro del gioco di ruolo, diciamo, del gioco di ruolo elettronico, del videogioco di ruolo, ed è anche un pilastro dei giochi dedicati a D&D. È stato un pilastro anche nella stessa ambientazione, nel senso che gli eventi raccontati in Baldur's Gate sono stati inseriti poi nell'ambientazione ufficiale. Inoltre fa conoscere una parte del Ferun che secondo me è essenziale. Sì, allora, i giochi che ho streamato oggi te li scrivo, aspetta, Pull of Radiance. Quello proprio difficile, difficile, che richiede pazienza, tempo e stomaco. Eye of the Beholder. E il terzo è The Keep. Ok. Ah, ragazzi, devo poi ripristinare la... Scusate, devo ripristinare il canvas, che adesso mi vedete tutto storto, perché ovviamente ho cambiato risoluzione, ma questa è una cosa che a fine live poi faccio e non ci sono problemi. E niente, ragazzi, la prossima live di D&D la facciamo, non so se la prossima settimana o altro. Domani ci vediamo con Guild Wars, continuiamo Guild Wars 1. Sempre intorno alle 5. E non so se farò qualcosa nel fine settimana, non ve lo garantisco perché ho delle cose da fare sulle quali sono piuttosto indietro, quindi non so se riesco a trovare il tempo questo fine settimana per streammare. Nel caso poi ci rivediamo da lunedì o con una terza live di Guild Wars, perché a seconda di quello che facciamo domani potrei dover finire il prologo e quindi cercare di in qualche modo completare la parte iniziale. E poi invece cominciamo la prossima settimana un nuovo gioco, che potrebbe essere Rise, Son of Rome, oppure Enslaved, oppure come terza opzione avevo pensato a Remember Me, ancora non lo so. Ok, ragazzi, io vi ringrazio tutti per l'attenzione, per la partecipazione, ringrazio tutti i nuovi follow, ringrazio Black per gli aiuti tecnici e anche per, come devo dire, la compartecipazione emotiva al fatto di rivedere un gioco vecchio che comunque ha segnato la nostra infanzia barra adolescenza videoludica, ringrazio Veri, ringrazio Nick, ringrazio Gnauz, tutti quelli che hanno partecipato, anche i nori che è venuta prima, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa live, vi saluto, vi auguro buona serata, buon completamento di serata, e vi do appuntamento a domani, sempre sulla CPTV. Grazie a tutti e vediamo se riesco almeno in uscita a mandare la sigla come si deve. E ciao sposo, ciao Veri, buonasera da tutti ragazzi, grazie di tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.